Gente a noi, su svegli, immaginazione, siamo tutti in errore signori miei, ma non ci dobbiamo confondere per così poco la Contessa. Ha la febbre, Delina? Hai una Contessa davvero? Contessa, sì. Io l'ho amavo, l'hai inteso? E l'ho fatto morire. Randati! Cacciati da tutti a pedate! Ma chi si uccise? Eh? Tutto l'infinito che è negli uomini, lei lo troverà dentro e intorno a questa villa. Controlli! 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 Siete arrivati alla vostra meta. Oddio, ma dove siamo qua? Controlli! No! Ci siamo svegliati fuori. Fuori di che? Fuori di noi, stiamo sognando. Oh! E sei sicuro che i nostri corpi di là respirano ancora e non sono morti? Ma che morti, imbecile! E' là che sei impiccato! Guardate! Guardate! Guarda! No, 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 no! E' fatta proprio per vivere qua! In mezzo a noi che crediamo nella realtà dei fantasmi in più che a quella dei corpi! Prosegua! Di che si stupisce? Lei ha trovato lei! Non rompere in tante! Non chieda spiegazioni! Non c'è sogno, caro! Più vero di questa realtà! E noi siamo qui stanotte che tutto questo sia vero! E la sua favola può vivere soltanto qua! Ma lei vuol seguitare a portarla in mezzo agli uomini! E SILA! I giganti! Ecco, i giganti! Vedono dalla montagna! Tutti a cavallo! E magari Hertz... Se deve perdere! Grazie a tutti. Grazie a tutti.